Allora, è importante fare le suole. Una cosa fondamentale sulle scarpe è rendere le suole pulite, perché dà una freschezza alla scarpa pazzesca. Questa è una spugnetta che va ripresa così, ma fondamentalmente, la cosa fondamentale proprio sono le suole. Le suole è una di quelle cose che bisogna andare un po' sotto. Questa è una spugna che c'è dentro del lucido, che è lucida, toglie tutti gli alone che ha su e ti dà lucentezza alla scarpa. Poi ci vuole un bel panno. Vedi come viene? E questo è sul marrone.